Fiorentina e AGSM Verona si affrontano sul sintetico dello Stadio Bozzi nel capoluogo toscano nel primo big match del massimo campionato. Sembra quasi una maledizione ma come da tradizione la squadra scaligera è costretta a presentarsi con defezioni nelle gare che contano. Miss Allongega non può schierare le tre azzurrine impegnate in Portogallo nelle qualificazioni europee. Ancora i box con Gouli mentre Piemonte, febbricitante in settimana, parte dalla panchina. Al gran completo la Fiorentina con le tre ex, Oxstrom, Carissimi e Bonetti in campo. Gara subito frizzante con Bonetti che gira sopra la traversa e Gabbiadini che risponde chiamando Oxstrom all'intervento. Al ventunesimo Cacamo chiama Talman alla deviazione in angolo con una conclusione da posizione defilata. Il Verona soffre la velocità delle Fiorentine sulla sinistra e al venticinquesimo Longega corre ai ripari sostituendo Dolstra con Piemonte e arretrando Boatin sulla linea difensiva. Tre minuti più tardi la Fiorentina passa in vantaggio con Cacamo che si accentra in area e batte l'incolpevole Talman. Le scaligere alzano il baricentro e vanno vicine al pareggio al trentacinquesimo con la conclusione di Williams respinta da Bartoli che si sostituisce al portiere nel respingere la sfera. Si va a riposo con l'esiguo vantaggio Viola. In avvio di ripresa le gialloblu hanno una buona reazione ma è la Fiorentina che dopo tre minuti perviene al raddoppio con una ripartenza amicidiale. Bonetti in area serve la solissima Caccamo che realizza la doppietta personale. Le veronesi colpite a freddo abbozzano una reazione con Manuela Giuliano che ci prova dal limite ma la sua conclusione termina alta. Le gialloblu tornano in partita al quattordicesimo quando Martina Piemonte dal vertice sinistro dell'area fa partire una conclusione che si insacca nell'angolo più lontano. Talman tiene a galla il Verona respingendo la conclusione dell'ex Bonetti ma nulla può al quindicesimo sull'incornata ravvicinata di Mauro che porta la Fiorentina sul 3 a 1. Opportunità per il Verona al trentatreesimo capitano Gabbiadini calcia a botta sicura trovando il miracolo di Stefani Oxstrom che tocca in angolo. Dopo la girandola di sostituzioni l'ultima opportunità a tempo scaduto è per Marta Carro che chiama Oxstrom all'intervento a terra. La Fiorentina si impone 3 a 1 medesimo risultato conseguito nel capoluogo toscano nella scorsa stagione. Per la GSM Verona neppure il tempo per rifiatare che martedì c'è subito un altro match importante. In via Sogare arriva il Tavagnacco per il recupero della seconda giornata.